Cavallari recupera il pallone e lascia a Sias, nuovamente Cavallari, va a girare la palla, accio lungo intercettato, poi il tiro nel numero 21 con la casacca verde, graniglia, azzurra, primo gol della partita, 1-0 per il Flamingo. Andiamo a girare la palla ancora, c'è lo scatto del numero 23, coperto però, allora possono provare a ripartire con il loro numero 10, disegno ancora, punta l'avversario poi, riceve nuovamente il passaggio ma è intercettato, allora possono provare a ripartire, qui il Flamingo, ma c'è ancora il numero 10 che prova il tiro, battuta subito, ancora, bello spazio, vuole provare il tiro, Cavallari ancora, torna indietro e poi girano palla, c'è ancora Lucarelli, si sposta il pallone, prova il tiro, rete, la rete del pareggio, 1-1 per l'Atletico Poco Poco, che riesce a tornare in pari, difesa qui, solida, riescono ad uscire dal pressing, c'è Cipolla che vuole provare il tiro, chiuso però, credibilmente da Alagna, che riesce a far partire la propria squadra, è da sola davanti alla porta, disegno, prova il pallonetto dopo il rimpallo, palla che però rimane lì, ancora, disegno, il portiere, portierone, cosa ha parato? Battuto ancora, c'è Vitale che lascia ad Alagna, che ha spazio per salire, preferisce passaggio per Vitale, ancora, c'è la verticalizzazione per Di Marco, ancora disegni, disegni al limite dell'area, entra in questo momento, e serve una grandissima palla per Alagna, che deve soltanto appoggiare dentro la porta, 2-1, superano la squadra avversaria, c'è ancora il tiro, questa volta di Sias, il portiere ci mette le mani, sarà di messa laterale, ora devono provare a fare qualcosa qui, Flamingo, perdono palla però, prova il tiro, incredibile qui Vitale, alla rispinta dal portiere, buona occasione qui per il Flamingo, è da sola, davanti alla porta, prova il tiro, graniglia parata qui del portiere, incredibile, ancora palla intercettata, alla difesa qui dei Flamingo, poi Sias, nuovamente, ancora non è finita l'azione, poi il tiro, Sias riesce a portare la squadra sul 3-1, grande recupero qui, ripartenza solitaria di Sias, atletico, poco atletico, che c'è? Poi Lucarelli, a disimpegnare, prova, vuole provare l'incursione, tutta sola, poi preferisce il passaggio, ancora Disegni, Disegni a destra, dove c'è Olivieri, ancora Disegni lo scatto di Olivieri, Disegni vuole provare il tiro, lo fa in questo momento! Ottimo gioco di corpo, per far spostare gli avversari, gol, è il numero 10 dell'atletico, poco atletico, che porta la squadra sul 4-1, ora calcio d'angolo, battuto lateralmente, botta, prova il tiro da fuori, palla intercettata però, allora possono ripartire per quest'ultima azione del primo tempo, il Flamingo ancora, con la palla smistata sul numero 23, contenta, ancora, prova il dribbling, è fermato però, c'è la ripartenza, con il passaggio di Cavallari ancora, Disegni, supera il portiere, e riesce a siglare il 5-1, prima del fischio, di fine primo tempo, possono provare, incursione, per via esterna, il pallone rimane lì, c'è il portiere che prova il tiro! Frette, riesce a buttare la palla dentro, è vivibile gol qui, del portiere, quarta, 5-2, tra calcio d'angolo, a favore dell'atletico poco atletico, ancora Cavallari vuole provare il tiro, palla che sguscia via dalle mani del portiere, non c'è carica, dice l'arbitro, e allora sarà 6-2, è una battuta Sias, ora Alagna, nuovamente Cavallari, può provare a salire, Alagna, Sias, Cavallari, incredibile lo scambio qui, può provare ancora Sias, vede Olivieri da sola, può provare il tiro, è il portiere però, incredibile questa azione, ora passaggio, Lucarelli ancora, se le out di sinistra, alla girata, c'è Cavallari, ancora Lucarelli, vuole cercare lo spazio, c'è Sias, vede nuovamente Lucarelli, intercettato, poi ancora Sias, il tiro, c'è quarta però, bocchia, allora Botta, ancora Cipolla, ovviamente Botta, lancio lungo, c'è la copertura però, numero 9, allora può ripartire, disegni ancora, uno contro uno, sposta il pallone e tira, incredibile qui l'azione di disegni, dopo l'assist, il numero 9, Lucarelli, che la vede da sola, serve un pallone in profondità, 7-2, la provano, corzione con Di Marco, assaggia nuovamente per Alagna, gira palla, c'è Vitale, ancora Alagna, fuori dall'area, vuole provare il tiro, e interviene, sul pallone, Di Marco, che riesce a realizzare l'8-2, per l'atletico, poco atletico, azione, magnifica qui, trovato il gol anche Di Marco, in questa partita, allora calcio di punizione, a favore del Flamingo, pronta a batterlo, bocchia, no, il lancio lungo, prende in pieno Olivieri, c'è quarta però, sul pallone, rischia qualcosa qui, protegge con il fisico, e poi Olivieri davanti la porta, curato, la sbocchia, incredibile qui, cosa si è mangiata, la corta, ancora Lagna per Sias, Sias cerca spazio, nuovamente a Lagna, ha lo spazio per il tiro, in questo momento, e ancora, Cavallari, brava Olivieri, il tiro, palla che termina al lato, grazie. Grazie a tutti.